Una giovane colta assessora ai servizi sociali è quindi in un comparto estremamente problematico. Anna Maria Campa, insegnante di matematica a tempo indeterminato, quindi che ha risolto il problema della vita, come vorrebbero risolvere forse tanti giovani nostri concittadini. Il settore effettivamente è molto pesante, un settore nevralgico, che ovviamente assorge in questo momento a direi assessorato centrale nella vita del nostro Paese, data la condizione appunto in cui si trova la nostra comunità. Partiamo appunto da questa descrizione. Qual è la condizione vera, reale della nostra comunità, delle famiglie galatonesi? Chi meglio dell'assessore appunto ai servizi sociali ce la può descrivere? Ecco, e io chiedo appunto ad Anna Maria Campa questo. Facci una breve ma esauriente descrizione di questa condizione sociale perché tutta la gente ne venga a conoscenza. Buonasera direttore. Per me è un piacere e la ringrazio di questa opportunità perché sicuramente per me è un'opportunità cercare di far comprendere un pochettino a tutta la cittadinanza quelle che sono le problematiche del mio settore sicuramente particolarmente delicato in questo momento storico e soprattutto per cercare insomma anche di far capire quella che è la visione che oggi ha l'amministrazione comunale di questo settore e quindi in che modo vuole cercare insomma di intervenire nello stesso. Diciamo che il welfare sociale è oggi particolarmente minacciato quotidianamente dalla crisi economica nazionale che chiaramente così come a Galatone così come in tutta Italia si ripercuote su quella che è la stabilità della persona singola, della famiglia, delle aziende e quindi chiaramente ciò determina l'emergere di una serie di povertà che comunque sono notevolmente diversificate e che possiamo anche individuare per certi versi come nuove povertà perché diciamo da un lato continuano a permanere quelle situazioni di classiche difficoltà che hanno i cittadini galatonesi che hanno magari sempre avuto legate a situazioni di disagio, incapacità di adattamento magari per mille motivi diversi, per motivi familiari, per storie personali, per tossicodipendenza, per tanti motivi che possiamo immaginare, che conosciamo diciamo nella nostra società ma anche oggi si assiste ad una povertà che non è soltanto la difficoltà anche economica di gestire la questione personale e la questione familiare ma anche una nuova povertà dettata forse anche dall'inadeguatezza con cui magari molti cittadini non si sentono di poter affrontare la società che li circonda come se si sentissero inadeguati a quelle che sono le caratteristiche di tutti i cittadini come se non riuscissero a vivere alla pari la società che li circonda e quindi diciamo che per questo motivo nonostante il periodo particolarmente difficile e nonostante i tagli magari del governo in base diciamo appunto alla situazione economica è chiaro che le istituzioni debbono darsi una programmazione per cercare appunto di attuare degli interventi che possano proteggere e promuovere l'inclusione sociale di questi soggetti svantaggiati accanto a questo facciamo anche uso e diciamo ci aiutiamo con il piano di zona delle politiche sociali quindi secondo il piano regionale perseguendo degli obiettivi di servizio che cercano di migliorare la qualità della vita e il benessere di questi soggetti svantaggiati diciamo che dal mio personale punto di vista come assessore alle politiche sociali è di situazione diciamo molto particolare e molto delicata e anche dal mio insediamento d'oggi sicuramente anche peggiorata è peggiorata perché è sensibile insomma il dato di un aumento delle domande di contribuzione economica un aumento di morosità delle utenze, una morosità eccessiva dei canoni di locazione che ha portato a innumerevoli sfratti negli ultimi periodi e quindi chiaramente emerge vivemente insomma la problematica sociale una problematica che a volte deriva semplicemente anche dallo smarrimento dovuto anche alla perdita del lavoro da parte di famiglie che dignitosamente hanno sempre vissuto anche di un lavoro precario come dicevamo prima però che magari consentiva un sostentamento e quindi io penso che comunque accanto a tutti gli interventi che le istituzioni possono fare la cosa più importante oggi è quella di condividere il bisogno condividere il bisogno con tutti gli altri con le scuole, con le parrocchie, con tutte le associazioni, con tutti i cittadini per creare una rete che possa in qualche modo marginare tutte le situazioni di emergenza nelle varie loro sfaccettature e quindi riuscire in qualche modo a tenere tutte le parti insieme ed evitare che si sfaldi in qualche modo la socialità che ci circonda Ecco una parola abbastanza importante questa rete lei parla di rete sociale quindi esiste una rete sociale che lei ha promosso e che lei condivide ovviamente con diversi attori sociali ecco ci spiega come funziona da chi è formata questa rete e quali sono i programmi che vi siete dati appunto tutti insieme con gli altri esponenti Sì la rete è secondo me diciamo la chiave del successo un po' di tante iniziative che stanno sorgendo in questo periodo è stata promossa da me coltivata in tanti mesi per questo diciamo ora si cominciano a vedere in qualche modo i frutti tra virgolette di quello che è stato un lavoro e che è durato circa un anno quindi il fatto di avere a disposizione come istituzione anche l'ambito di zona e quindi in particolar modo quello di Nardò di cui il comune di Galatone fa parte mi ha consentito innanzitutto di fare rete anche scambio di proposte e progetti con gli altri assessori dell'ambito quindi con Segli, con Leverano, Porto Cesario, Copertino e Nardò ma in particolar modo mi sono diciamo concentrata sul mio territorio quindi su quello galatonese cercando appunto di fare rete sul territorio sia per far venire fuori perfettamente quelle che sono le situazioni a volte che non arrivano nemmeno ai servizi sociali ma che comunque possiamo conoscere soltanto per vie traverse però che è importante conoscere perché magari non tutti hanno la volontà di chiedere perché la loro dignità a volte è più forte di questo loro bisogno e quindi ho promosso una serie di incontri innanzitutto sono partita dalle parrocchie quindi con un confronto con tutte le realtà parrocchiali che mi permettesse di conoscere nel profondo e di confrontarmi con loro su tutte le situazioni delle varie famiglie assistite da noi o assistite da loro e viceversa e successivamente mi sono allargata a quelle associazioni che comunque in un modo o nell'altro avevano comunque un impegno sociale relativo alle situazioni di particolare difficoltà e che hanno dato piena disponibilità fin dall'inizio nella realizzazione dei vari interventi che poi si stanno realizzando in questi giorni e che quindi hanno deciso di collaborare in queste rete e per esempio abbiamo la Caritasso Diocesana, il consultorio familiare diocesano e abbiamo anche la Compagnia di Santo Luca che è stata sempre molto sensibile anche nel fenomeno proprio della solidarietà anche dei beni insomma materiali e del mercatino dell'usato ad esempio e abbiamo Feder Casalinghe, l'Università della Terza Età, il Centro Sociale Anziani, Verbum Landi Art, Attivarti, la comunità di Capodarcon, spero di non aver dimenticato nessuno e l'Artaia anche quindi l'associazione che comunque diciamo aiuta i disabili e quindi si tratta di tutte realtà che per motivi diversi e per impegni diversi si trovano a confrontarsi con la realtà sociale quella più povera, quella più bisognosa e che quindi tutti insieme hanno voluto fare rete, non solo in senso della solidarietà ma anche in altri livelli, infatti ad esempio la stessa rete si sta impegnando nelle pari opportunità. Mi sembra una rete abbastanza composita che per le competenze che hanno i vari membri consente di toccare tutte le questioni di tutte le categorie di persone e quindi dall'infanzia al giovane, diciamo al disabile, al disadattato, al deviante, all'anziano. Quindi avete un programma puntuale, preciso, ad ampio raggio che in sostanza cerca di soddisfare le esigenze di tutta la popolazione cittadina. Ecco, vuole essere più precisa spiegando magari quali sono i contenuti, il confronto che avete avuto fra di voi i bisogni che avete rilevato all'interno della società. Sì, effettivamente la rete è composita e quindi è variegata nelle possibilità anche di intervenire che ha sul territorio, così come in realtà sono composite anche le mie stesse deleghe perché appunto riguardano un pochettino tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro età dalla partita dall'infanzia fino ai soggetti anziani. Sinceramente i bisogni che sono stati identificati come primari sono proprio quelli legati alle famiglie sia per quanto riguarda il sostentamento economico, anche quello alimentare per l'emergenza abitativa ma anche quello legato alla socialità, quindi la capacità di far integrare socialmente tutti i soggetti a diversi livelli e soprattutto i minori per evitare anche fenomeni di devianza, di dispersione e problemi nel rapporto con i genitori ma anche a livello degli anziani che comunque stanno riscoprendo un ruolo-ruolo che non è solo legato a quello del centro anziani ma che comunque diventa intergenerazionale e sinceramente è stato molto soddisfacente vedere come questo rapporto intergenerazionale sia stato molto positivo e propositivo per entrambe le parti perché gli anziani si sono sentiti parte attiva della società e donatori di quella che è tutta la loro esperienza e la loro saggezza e contestualmente invece i ragazzi si sono divertiti a comprendere, ad apprendere e anche ultimamente alcuni mi hanno chiesto di realizzare dei progetti, di mettermi in contatto infatti di farmi da tramite insomma tra associazioni giovanili e associazioni degli anziani Brevemente, i rapporti con le scuole, come sono? Ci sono questi rapporti? Ci sono anche dei rapporti di collaborazione all'interno di progetti comuni? I rapporti con l'associazione delle religiose di via San Luca? So che loro curano anche l'aspetto culturale, assistono questi ragazzi nelle ore pomeridiane per attività didattica e di apprendimento di doposcuola eccetera Ecco, avete anche rapporti con loro? Sì, sicuramente i rapporti con le scuole esistono da sempre tramite servizi sociali anche perché il rapporto innanzitutto con le dirigenti di entrambi i poli è comunque un ottimo rapporto di cordialità anche di confronto su quelle che possono essere alcune situazioni di allunni problematici e lo stesso avviene anche per quanto riguarda gli istituti superiori in particolar modo con l'istituto professionale e questo rapporto riguarda ad esempio la mezza scolastica e anche quindi la possibilità di far accedere ai servizi anche ai ragazzini che magari le cui famiglie non hanno grandi possibilità economiche per quanto insomma riguarda il materiale didattico e quant'altro ed inoltre anche per i percorsi di orientamento al termine della scuola media per esempio anche con l'istituto professionale abbiamo fatto degli incontri specifici di orientamento anche in collaborazione con l'assessorato alla cultura che insomma ci hanno coinvolto appunto per cercare di trovare un percorso adatto insomma o comunque orientare i ragazzi a sceglierne uno che fosse insomma che potesse portare loro a un successo formativo e per quanto invece riguarda le sue reterziare cappuccine in particolare l'associazione Pace Bene Onlus loro praticamente collaborano con noi tra le altre iniziative che noi abbiamo sui minori e in particolare loro fanno un percorso diciamo di dopo scuola che è anche un percorso insomma educativo e culturale nella zona praticamente che vede ubicata anche la loro sede quindi da quella parte alla 167 sostanzialmente e quello che noi facciamo con loro è una collaborazione anche strettamente economica nel senso che noi cerchiamo di supportare tutti i loro interventi sia nel corso dell'anno scolastico sia nel corso del composcuola che loro realizzano ogni anno e anche per esempio facendo da tramite come è successo due anni fa per avere la sede per esempio dell'istituto medi per esempio per avere una sede dove svolgere effettivamente queste attività sostanzialmente il rapporto è comunque positivo perché anche alcuni di loro fanno anche integrazione extrascolastica dei ragazzi disabili nel pomeriggio Il problema giovanile ecco voglio chiedere all'assessore c'è un problema giovanile a Galadone nel senso ci sono problemi particolari esempio problemi di integrazione di disagio, di devianza, di bullismo di rifiuto della società difficoltà particolari e difficoltà legate magari alla impossibilità di accedere al lavoro si aprono prospettive di lavoro per questi giovani c'è qualcosa che può far pensare a un miglioramento a breve della condizione sociale complessiva? Sicuramente la condizione giovanile è quella che forse non dico più delle altre ma che comunque sta soffrendo molto la situazione attuale proprio perché hanno difficoltà a trovare un percorso per il loro futuro è forse un momento di particolare smarrimento per tutti i ragazzi chiaramente le problematiche sono diverse a seconda delle età che prendiamo in considerazione nel periodo dell'adolescenza sono più frequenti rispetto che in altri periodi fenomeni di bullismo di disagio sociale di incapacità magari di adattarsi o non volontà forse di adattarsi alla società che li circonda chiaramente in questo ci sono effettivamente tanti fenomeni vengono comunque sempre evidenziati e spesso insomma sono argomenti molto delicati che vengono trattati in maniera specifica dalle assistenti sociali anche in collaborazione con le scuole con le segnalazioni che vengono fatte dalle scuole stesse e che poi magari passano anche a volte attraverso il tribunale e nei casi peggiori anche prevedono l'allontanamento a volte dei minori dal nucleo familiare ed effettivamente anche noi come comune abbiamo una serie di casi di ragazzini che sono stati allontanati dalle famiglie oltre a questo diciamo esiste anche un fenomeno diciamo generale di disagio che in qualche modo viene cercato insomma di essere affrontato a diversi livelli le scuole fanno la loro parte anche le suore come dicevamo prima ci danno un grande contributo da questo punto di vista e diciamo come comune avremo un progetto di potenziamento di alcune strutture in modo che si possano svolgere delle attività pomeridiane quella diciamo che sarà più a breve sarà realizzata e l'autorizzazione al funzionamento di un centro di urno per minori che sarà realizzato in una struttura che si trova in via Lecce in una casa privata ma che comunque sarà autorizzato al funzionamento del comune di Galauton quindi speriamo che anche in questo contesto riusciremo insomma ad arginare delle situazioni particolarmente difficili per quanto invece riguarda i ragazzi che diventano un po' più grandi quindi che diventano quasi adulti e cercano il loro percorso le difficoltà sono effettivamente grandissime uno perché comunque la società odierna oggi non offre grandi possibilità lavorative in secondo luogo perché anche loro stessi a volte non sono neanche a conoscenza di quelle che sono le opportunità che esistono sul mercato diciamo così tra virgolette e quindi proprio discutendo di questa cosa pochi giorni fa abbiamo iniziato un percorso di collaborazione tra lo sportello Europa del comune di Galauton che è stato attivato un anno e mezzo fa e che aveva appunto il compito di promuovere attraverso i giovani sia le opportunità all'estero che le opportunità in Italia anche da un punto di vista di start up di inizio attività e anche con la lente di formazione ASCLA che gestisce ad oggi il Labo 83 di Bollenti Spiriti con il progetto Bollenti Spiriti e con l'informa giovani anche con lo sportello informa giovani il tentativo è quello di realizzare una progettualità che dovrebbe poi esplicarsi nel 2015 quella proprio di effettuare a parte i corsi di formazione proprio una serie di incontri di orientamento quindi per far conoscere ai ragazzi tutte le opportunità per insegnarli a muoversi diciamo nel mondo che li circonda e trovare da soli delle opportunità o inventarsene delle altre e quindi diciamo questa è un po' l'idea che abbiamo fatto di una serie di infodei che possono aiutare i ragazzi ad orientarsi nel mondo inoltre ci sono una serie di proposte di corsi di formazione sui lavori artigianali che mi sono state fatte e che intendo realizzare e lo stesso Comune sta cercando di accreditarsi come ente di formazione per poter promuovere insomma percorsi formativi che possano far trovare una strada insomma a tutti i ragazzi in difficoltà Per gli anziani avete assicurato il soggiorno climatico ad Abano Terme non so se ci sia anche assistenza domiciliare per gli anziani ma vorrei anche chiedere il centro anziani che è stato messo a nuovo diciamo è stato ristrutturato io l'ho visitato mi sembra abbastanza efficiente è pronto ecco quando sarà di fatto utilizzato dai nostri anziani? Sì come ogni anno abbiamo realizzato un soggiorno climatico per anziani lo facciamo ogni anno anche da quando mi sono insediata io questo è il terzo anno quest'anno la meta prescelta è stata Abano Terme che comunque è una delle più richieste almeno in Italia e si tratta sicuramente di un momento molto importante per l'integrazione di questi soggetti anche per la loro convivialità per la possibilità che hanno di socializzare e anche di farsi delle cure che siano insomma adatte al loro stato di salute e molti delle persone che comunque partecipano a questo soggiorno climatico sono le stesse che fanno parte del centro sociale anziani del comune di Galatone che è un centro molto attivo che conta più di 100 iscritti e che ogni anno organizzano una serie di attività e che fanno parte anche della rete sociale che abbiamo organizzato e che stanno dando davvero una mano concreta e vivace diciamo anche alla nostra cittadina perché loro sono comunque gioviali e hanno sempre una grande energia quindi sono proprio piacevoli da questo punto di vista sono anche le stesse mani che hanno realizzato la Nittinarte lo scorso 8 marzo che ha colorato insomma le vie della città e questi diciamo sono anche con loro facciamo una serie di azioni di interventi e molti altri invece li dobbiamo fare per domiciliarizzazione perché comunque ci sono tanti anziani che non sono autosufficienti e quindi hanno necessità di essere in qualche modo aiutati questo percorso lo abbiamo sempre comunque in qualche modo garantito come comune di Galatone oggi il percorso è ancora più specifico perché grazie al piano di zona sono andati avanti due percorsi di assistenza domiciliare che sono SAD e ADI e ADI in particolare l'assistenza domiciliare integrata con le prestazioni sanitarie dell'ASD i percorsi sono partiti e insieme a questi è partito anche un altro percorso che abbiamo sempre realizzato come piano di zona ottenendo dei finanziamenti dall'ex-impdap che si chiama Home Care Premium ed è atto appunto a dare una mano insomma agli anziani non autosufficienti o comunque ai soggetti non autosufficienti non necessariamente anziani che si trovano in particolare difficoltà per quanto invece riguarda sostanzialmente il centro anziani che mi chiedeva prima quella è una casa di riposo con annesso centro diurno quindi è una struttura molto bella chiaramente nuova l'abbiamo inaugurata l'anno scorso come fine lavori poi diciamo c'è stato un lungo periodo per poter fare una gara per poterla dare in affidamento a gestione cooperativa la gara si è finalmente conclusa e quindi siamo alla fase dell'apertura delle bus per cui contiamo ormai che fra un mese un mese e mezzo al massimo sicuramente sarà utilizzata per quello che è davvero la sua funzione cioè quella di accogliere appunto anziani non autosufficienti che possano stare lì come casa di riposo e che oggi sono dislocati nei vari paesi intorno a Galatone e quindi possono insomma in qualche modo ritornare a casa ma soprattutto puntiamo su quella struttura proprio come centro diurno c'è la possibilità di stare durante il giorno e quindi poi magari ritornare a casa a dormire con i propri cari e quindi anche lì punteremo a fare una serie di attività che coinvolgano anche gli anziani del centro anziani e tutte le altre associazioni per poter rivitalizzare insomma in qualche modo la struttura inoltre ci tengo a dire che ho anche protocollato un progetto per il servizio civile nazionale che riguarda sia uno che riguarda i giovani ma anche uno che riguarda proprio gli anziani e quindi anche per raccogliere la loro memoria e dare l'opportunità a queste persone di fare qualcosa in più per il nostro paese e se ce la farò insomma tempisticamente fino alla fine del mandato conto anche di realizzare una mensa sociale per i cittadini più poveri sempre lì in quella struttura visto che ci sono le cucine a disposizione e quindi un luogo adatto a fare questa cosa Credo che una delle attività particolarmente qualificanti dell'azione dell'assessorato sia il Banco della Solidarietà ecco ci dica come ha funzionato chi è stato rivolto e se è stato utilizzato quali risultati ha dato? Sì il Banco della Solidarietà è stato inaugurato in realtà l'11 settembre scorso è frutto proprio della collaborazione tra il Comune e questa rete solidale di associazioni che ci danno una mano è uno tra i tanti interventi che in realtà l'amministrazione comunale fa a sostegno del reddito delle famiglie perché ci si è resi conto che sostanzialmente nonostante cerchiamo sempre di potenziare tutti i sostegni economici che comunque facciamo nei confronti delle famiglie in difficoltà forse potevano essere coadiuvati anche da altri sostegni diversi così come il Banco Alimentare il Banco della Solidarietà il Banco della Solidarietà consiste sostanzialmente nella possibilità di riutilizzare degli oggetti dei vestiti delle calzature degli accessori che magari per alcune famiglie sono superflui però sono in ottime condizioni per poter essere utilizzati da altre famiglie che invece ne sono bisognose e sinceramente ad un mese diciamo di distanza dalla inaugurazione io sono molto soddisfatta per i risultati ottenuti sia perché c'è stata tanta sensibilità da parte dei cittadini galatonesi che hanno comunque donato tantissimo al Banco tanto è vero che comunque abbiamo il deposito pieno e comunque i volontari sono sempre lì a dividere le varie donazioni in base alla tipologia dei beni arrivati ma soprattutto sono contenta del fatto che il lunedì pomeriggio che è il giorno in cui comunque si può andare a ricevere questi beni da parte delle famiglie c'è proprio la coda delle famiglie questo diciamo una soddisfazione non nel senso che è bello vedere tante famiglie bisognose perché vorrei che non ce ne fossero per niente però è una soddisfazione nel senso che comunque si sta facendo qualcosa perché effettivamente c'è qualcuno che ha tanto bisogno e quindi davvero ci sono tanti sono numerosissime le famiglie che vanno e anzi se mi posso permettere di fare un appello noi abbiamo tantissime cose io ringrazio davvero tutti i cittadini inghelatonessi c'è una cosa in cui abbiamo diciamo più bisogno perché tutto quello che avevamo l'abbiamo già dato via riguardo il materiale scolastico quindi gli zaini gli astucci che c'erano arrivati sono andati via immediatamente quindi avremo bisogno di materiale scolastico anche pennarelli squadre quaderni se chi volesse donarli insomma per noi sarebbe un grande aiuto stanno ascoltando gli insegnanti i dirigenti scolastici ci stanno ascoltando tante famiglie quindi immagino che l'appello dell'assessore venga preso in serie considerazione Galatone è un paese profondamente solidale io ho lavorato sono stato nella scuola per tanti anni e conosco il polso diciamo del sentimento e della bontà della gente di Galatone sono stati sempre pronti a rispondere a qualunque appello quindi sicuramente il materiale scolastico arriverà una fra tante cose fatte forse forse c'è un qualcosa che non è stato fatto è giunta vi è giunta una lettera aperta da dirigenti di rinascita Galatea in cui appunto venite accusati di non aver preso in considerazione una iniziativa che avrebbe potuto risolvere il problema di tante famiglie cioè quello di procedere con il comodato d'uso dei libri scolastici ci sono stati dei finanziamenti fatti direttamente alle scuole e dei finanziamenti che invece avrebbe dovuto chiedere il comune alla regione Puglia ecco come mai non vi siete mossi per questa iniziativa che probabilmente sarebbe stata ben accetta da parte di tante famiglie diciamo che sostanzialmente questo è un argomento che riguarda molto di più la pubblica istruzione che i servizi sociali nel senso proprio pratico del termine comunque sia diciamo che sostanzialmente con la nota del miuro noi quello che è di nostra competenza sia la pubblicizzazione per la frizione in maniera semigratuita dei libri scolastici la facciamo ogni anno l'abbiamo fatta anche quest'anno e come ogni anno abbiamo ricevuto tantissime domande nel momento in cui riceveremo i finanziamenti daremo alle famiglie quanto loro spetta chiaramente il fatto che oggi esiste anche un finanziamento per il comodato d'uso che viene dato direttamente alle istituzioni scolastiche per noi diciamo è un aiuto in più nel momento in cui insieme alle scuole andiamo ad individuare le famiglie che hanno necessità di questi interventi però sinceramente come assessore servizi sociali almeno per quella che è la mia esperienza io mi sento di dire che ogni anno a prescindere da quella che è l'indicazione del ministero comunque noi abbiamo sempre provveduto in concomitanza con le segnalazioni delle scuole e con quelle nostre a cercare di fare in modo che tutte le famiglie in difficoltà avessero le stesse comunque possibilità degli altri che quindi tutti i bambini e tutti i ragazzi avessero la possibilità di studiare esattamente come gli altri loro compagni lo abbiamo fatto sia come servizi sociali lo hanno fatto le scuole gli stessi docenti hanno messo a disposizione i loro libri di testo hanno trovato anche libri di seconda mano da poter dare e regalare anche ai ragazzi e l'abbiamo fatto anche con le scuole superiori e col professionale in particolare quindi comunque mi sento di dire che comunque siamo attenti a questo problema a prescindere o meno da una nota ministeriale domani mi sembra che inaugurate prendere avvio diciamo un progetto abbastanza importante un progetto che ha come oggetto diciamo le donne il progetto è urlo di donna nell'ambito immagino delle pari opportunità però vorrei sapere questo progetto nasce nell'ambito della normale programmazione dell'assessorato o da qualche caso particolare da qualche evento che lo ha reso particolarmente urgente e da realizzare in tempi immediati l'iniziativa si inserisce nell'ambito delle pari opportunità sicuramente nasce da molteplici sensibilità da una parte chiaramente c'è stato in questi due anni una serie insomma di segnalazioni anche di alcune donne che sono venute spontaneamente insomma a denunciare alcuni abusi familiari prima denunciati poi ritirati come succede diciamo normalmente anche per paura insomma delle conseguenze e poi c'è stata diciamo una particolare sensibilità da parte della comunità Capodarco dell'avvocato Benedetta Frezza che hanno diciamo sottoscritto un protocollo di intesa e che poi hanno diciamo condiviso con il consultorio diocesano familiare Regina Famiglie e che stanno condividendo anche quindi sarà poi un prossimo step anche con l'associazione Feder Casalinghe è una sensibilità derivata soprattutto dal fatto che il fenomeno del femminicidio dello stalking di tutte queste purtroppo notizie terribili che affollano i nostri telegiornali ormai quasi quotidianamente come se fosse un fatto normale quindi ha determinato la sensibilità di voler dare un'opportunità alle donne che comunque vivono situazioni di difficoltà e di violenze familiari o extrafamiliari diversa natura non solo fisica ma anche psicologica lavorativa eccetera e potessero in qualche modo essere ascoltate e soprattutto potessero essere orientate senza necessariamente dover procedere immediatamente alla denuncia immediatamente a un allontanamento eccetera quindi il senso dell'urlo di donne è appunto quello di creare uno sportello di ascolto e di consulenza totalmente gratuita quindi che viene proprio offerta volontariamente da queste persone sia da un punto di vista legale sia da un punto di vista psicologico anche da un punto di vista assistenziale quindi la donna verrà accompagnata dalla donna ai minori o comunque non vogliamo discriminare nel senso che comunque potranno accedere comunque coloro che si sentono in qualche modo maltrattati violentati e in un diciamo percorso di comprensione anche della natura di questo fenomeno del come riuscire a venirne fuori nella maniera più positiva possibile senza arrivare necessariamente alle estreme conseguenze quindi cercare anche di prevenire situazioni di disagio ancora più gravi o situazioni che potrebbero sfociare in violenza ancora più orribili chiaramente nei casi di particolare gravità abbiamo comunque il centro antiviolenza l'equip antiviolenza dell'ambito che lavora magari in maniera un pochettino più pratica e da un punto di vista assistenziale esiste proprio a Galatone una struttura di accoglienza per donne abusate sia per loro che per i loro figli minori che si chiama la casa di Elisabetta che è sempre gestita dalla comunità Capodarco si trova sempre nell'ex convento della Madonna delle Grazie e quindi una struttura pienamente autorizzata al funzionamento che nei casi più gravi potrà accogliere queste situazioni di disagio nell'ambito comunque delle pare opportunità chiaramente ci sarà la collaborazione anche di tutte le altre associazioni che comunque nel corso dell'anno stanno organizzando una serie di iniziative una si svolgerà a novembre in concomitanza con la giornata nazionale contro la violenza sulle donne e un'altra ci sarà il prossimo 8 marzo così come l'8 marzo scorso saranno iniziative culturali artistiche solidarie allo stesso tempo un assessorato molto impegnato e molto attivo mi sa che c'è qualche altra cosa che non abbiamo toccato che forse l'assessore vorrebbe toccare sì ci sono altre iniziative allora per quanto riguarda il problema diciamo delle famiglie si è evidenziato come dicevo prima il problema del pagamento dei canoni di locazione che ha determinato i numerevoli sfratti e quindi è stato deliberato pochi giorni fa ed è già attivo da pochissimo il bando dell'emergenza abitativa cioè la possibilità per l'amministrazione comunale di dare una mano ai cittadini galatonesi che hanno situazioni di reddito troppo basse per poter accedere al normale mercato di locazione e quindi cercare di reperire degli alloggi ad un canone concordato e magari nei casi più gravi anche aiutare proprio nel pagamento dello stesso nei primi mesi insomma per dare l'avvio a questa nuova stabilizzazione delle famiglie e inoltre c'è stato diciamo un progetto che si è chiamato diversity on the job relativo soprattutto all'inserimento sociolavorativo dei soggetti rom e Galatone comunque è un paese che accoglie una comunità rom ormai sono cittadini galatonesi però comunque hanno origini rom e questo è un progetto che è stato promosso da Italia Lavoro e che abbiamo realizzato in collaborazione con la comunità Sant'Eugenio con la cooperativa Sant'Eugenio che adesso sta inserendo appunto in alcuni interventi sociolavorativi alcuni dei nostri rom ed infine ma non meno importante secondo anche quelli che sono gli obiettivi di servizio della Regione Puglia un intervento sulla prima infanzia quindi anche per cercare di conciliare ancora meglio diciamo le attività lavorative delle mamme con le esigenze dei bambini si è cercato praticamente attraverso i piani di azione e coesione definiti appunto PAC sono dei fondi ministeriali di cui abbiamo fatto il progetto già mesi fa e tra pochi giorni finalmente saranno attivi e potremo accedere a questi finanziamenti che riguardano il potenziamento dell'esilo nido comunale già presente e anche il prolungamento dell'orario di permanenza con un servizio pomeridiano che sarà ludotecario educativo e che quindi potrà accogliere insomma tanti altri bambini per un periodo di giornata più lungo e quindi consentire alle mamme di tenerli in luoghi diciamo educativi anche se loro sono al lavoro mi sembra che anche in questa condizione di assoluta emergenza Galatone è sufficientemente tutelata da un assessorato che non trascura nulla che non lascia cadere nulla per cercare di risolvere i problemi della gente dei bambini degli anziani dei giovani ecco io sinceramente sono felice di aver ascoltato queste parole dell'assessore vi complimento con lei perché vedo un ambiente attivo e attento e pertanto mi auguro che l'assessore riceva perché fino adesso generalmente si ricevono più critiche che plavosi ma io al di là delle considerazioni che potrà fare la gente oggi le potrà fare però a ragione veduta su dati concreti perché lo scopo nostro era proprio questo far conoscere dal di dentro le azioni appunto dei politici e degli amministratori in modo che la gente si possa accostare con piena conoscenza ai fatti la ringrazio l'assessore dell'ospitalità la ringrazio per tutto quello che ha detto e le auguro buon lavoro e le giuste soddisfazioni io ringrazio voi per l'opportunità che mi avete dato di far conoscere il lavoro del mio assessorato un lavoro complesso ci sono tanti interventi in campo e io mi auguro insomma che al di là delle critiche o dei plausi che comunque tutto quello che stiamo facendo possa avere poi un riscontro positivo sui cittadini galatonesi in particolare su quelli che ne hanno particolarmente bisogno grazie ancora grazie a tutti